Abbiamo ancora come sottofondo questo saluto africano fatto dal Griot, che sapete è la figura tradizionale della comunicazione nell'Africa occidentale, col suono della cora, 21 corde che asserpeggiano e che mettono in evidenza ancora una volta come dall'Africa, come da ogni parte dove ci sono delle persone umane, vengono delle cose geniali, io vi do il benvenuto a questo incontro. È un incontro che di fronte ai convegni soliti che organizza Chiama l'Africa è un po' più ridotto perché come avete visto l'abbiamo organizzato in poco tempo, proprio perché quest'anno essendo i dieci anni di Chiama l'Africa abbiamo pensato verso il mese di ottobre, eccetera, di fare un momento molto forte, sempre qui nella città di Ancona, insieme con il Tavolo della Pace e nell'ambito dell'ONU dei Popoli, di fare un momento molto impegnativo di riflessione e di studio della realtà africana. Però non volevamo perdere questa occasione di questo incontro che ormai per il sesto anno tra il mese di marzo e il mese di aprile facciamo tutti gli anni. Ormai la città di Ancona è abituata a vederci arrivare, è abituata a seguirci in questa avventura di conoscenza della realtà africana. Vi chiedo scusa anche per il ritardo dovuto non alla nostra volontà ma dovuto ad una serie di operazioni di carattere burocratico nel merito del quale non voglio entrare ma che manifestano ancora una volta come il nostro mondo abbia paura degli altri. Abbiamo una paura quasi folle che qualcuno venga a mettere in discussione il nostro modello di vita, il nostro benessere, le nostre cosiddette conquiste che se andiamo a vedere nella storia spesso sono conquiste fatte perché sono frutte di rapina nei confronti dei paesi più poveri, dell'Africa in particolare. Ma non voglio tediarvi su questo, vorrei solamente presentare per un attimo un itinerario di questi cammino che abbiamo fatto che rappresenta un po' anche la nostra storia. A dieci anni possiamo cominciare dall'inizio di Chiama l'Africa, di questa avventura, possiamo cominciare anche un attimo a guardarci indietro, non la tengo lunga, non preoccupatevi, per capire che cosa abbiamo fatto e per capire dove ci situiamo. Quando dieci anni fa circa abbiamo con un gruppo di amici deciso di lanciare questa iniziativa chiamata Chiama l'Africa, appunto, partivamo da un dramma, il dramma del Ruanda, il dramma dei Grandi Laghi, il dramma dell'Est del Congo. Un dramma che ha portato ad un genocidio, che ha portato a 4 milioni di vittime in una guerra senza senso, di cui l'unico senso sono le risorse enormi del territorio congolese. Un dramma che ha significato morte per tanti e ci domandavamo allora cosa possiamo fare, come possiamo intervenire, come possiamo far pressione perché questo non avvenga. E riflettendo insieme a un certo punto ci siamo accorti di una cosa. Ci sono tanti drammi in Africa, anche perché non soltanto l'Africa è sconosciuta nella sua realtà. E un'altra cosa ancora abbiamo capito, che la salvezza dell'Africa non poteva venire da noi, non può venire da noi, perché sono gli africani coloro che sono responsabili del loro destino e della loro storia. Tanti atteggiamenti, molto spesso, anche di amicizia, anche di aiuto, erano frutti e sono frutte di un atteggiamento mentale che potremmo definire di carattere coloniale. Andiamo ad aiutarli, andiamo ad insegnare loro, diciamo loro come devono fare per uscire dai problemi, senza accorgerci che in questo modo si metteva ulteriore sale dentro le ferite di una storia difficile esistente tra noi e l'Africa. Si metteva il sale nelle ferite di rapporti sbagliati che erano stati fatti, che erano stati fin dal tempo in cui Vasco da Gama, 500 anni fa, il 18 aprile del 1498, dopo aver fatto la circonnavigazione del continente africano, era prodato a Mombasa, era iniziato allora una storia piena di rovine, di rapporti tra Europa e continente africano. Ed è nata Chiama l'Africa, Chiama l'Africa col senso, con la voglia di dire andiamo, mettiamoci in rapporto con quest'Africa, con quest'Africa che è in piedi, perché non c'è solo un'Africa piena di problemi, di drammi, ma c'è un'Africa piena di fantasia, piena di cultura, piena di arte, piena di creatività, piena di capacità di resistenza. Ed è quest'Africa al fianco della quale noi ci dobbiamo mettere per fare in modo che lei, che loro, che gli africani trovino la loro strada, trovino il modo per essere pienamente se stessi nel concerto della diversità di questo mondo. E in questi anni ce ne siamo accorti che questo è vero. E abbiamo anche, ci siamo anche accorti, scusate faccio un piccolo fatto di orgoglio come associazione, ci siamo anche accorti che questo approccio che all'inizio era isolatissimo, eccetera, un po' alla volta è andato prendendo piede. E oggi nessuno più si sogna di dire che l'Africa è un continente perduto e che gli africani vanno solamente aiutati. Oggi siamo di fronte ad un continente che si manifesta con degli eventi estremamente forti. E io vorrei, dando spazio un attimo, ricordarne alcuni, ricordare alcuni di questi ultimi, di questo ultimo anno. Ricordare per esempio che partendo dalla resistenza, dall'organizzazione della società civile, in Mauritania per le prime volte si sono tenute le elezioni politiche dall'indipendenza. Ricordare che sta andando avanti questo processo bellissimo ed entusiasmante di transizione alla democrazia nel Congo, che ha portato non solo a finire la guerra, anche se ci sono dei colpi di coda naturalmente, ma ha portato ad organizzare delle elezioni estremamente significative, dove la gente ha voluto esserci, ha voluto partecipare, ha voluto sentirsi protagonista. Vorrei ricordare quello che sta avvenendo in Mali, in Benin, in tanti paesi dove la gente comincia a dire che noi siamo protagonisti. E l'altra cosa bella, ci siamo accorti che i giovani africani, che soffrono una situazione difficile, perché pensate, noi diciamo che qui da noi abbiamo il futuro, abbiamo il futuro che è interrotto, loro pensate nelle situazioni in cui sono, che pur soffrendi in una società di una realtà difficile, sono capaci di organizzarsi, di sperare, di credere nel loro paese. E insieme con questo, cercando di vedere qual è il diritto che gli africani hanno il loro futuro, i giovani africani, vediamo anche nello stesso tempo l'altra faccia, la faccia di una speranza difficile che rischia di diventare disperazione, che abita, che riempie le carette del mare, che fa fare stenuanti viaggi per andare, per venire qui, a cercare un po' di vita, un po' di felicità, un po' di dignità. Abbiamo voluto dedicare proprio questo a questi due bambini. Ieri sera Pap Kanute ha letto la loro lettera, questi due bambini che sono stati trovati nel carrello di un aereo a Bruxelles nel 1999, uno di 14, uno di 15 anni, che portavano una lettera in cui chiedevano ai signori dell'Unione Europea, mentre dicevano la loro deferenza nei loro confronti, chiedevano che gli si aprisse la strada del futuro. E noi viviamo una realtà drammatica in questo contesto, perché da una parte abbiamo qualcosa grande che si sta muovendo in Africa, l'ascolteremo, e dall'altra parte abbiamo il Mediterraneo che è diventato una tomba a cielo aperto, piena di cadaveri, di gente che tenta le vie di raggiungere la felicità e dignità di vita in qualche altro modo. Su questo confine e su questo confronto si gioca l'incontro di oggi. Io vorrei ringraziare innanzitutto i relatori che sono qui, Patrick, il quale l'abbiamo incontrato nel nostro viaggio che abbiamo fatto in Benin e ci ha entusiasmato col suo, diciamolo così, entusiasmo nel lavorare nel mondo giovanile con i giovani a partire dalla sua esperienza di giovane che si è trovato ad un certo momento disoccupato e non si è lasciato con le mani in mano. E con lui ricordare tutti i bambini lavoratori che lottano per i loro diritti, ricordare tutte le persone, tutti i ragazzi che tutti i giorni devono inventarsi qualcosa per poter vivere. Lo ringrazio della sua presenza. Qui alla mia sinistra trovate Pier Cabessa. Pier Cabessa l'abbiamo incontrato a Bukavu durante queste lezioni. Ci ha detto qualcuno, c'è un ragazzo, un giovane, qui che sta con tutte le forze partendo dalla sua situazione di insegnante, eccetera, dove in uno paese dove la scolarizzazione è al 30% massimo della popolazione, proprio perché lo Stato non paga gli insegnanti e i genitori devono pagare loro gli insegnanti se vogliono la scuola, che ha cominciato insieme con altri a organizzare la resistenza, a fare dei momenti di sciopero, è stato incarcerato per questo, a riclamare la sua dignità e la dignità di tutti. Io vorrei ricordarlo Pier un giorno mentre il governatore di Bukavu ci era venuto a salutare, vorrei ricordarlo che si è presentato, il governatore naturalmente a salutare gli stranieri ci si va sempre molto volentieri, ma parlare con gli africani, con i propri cittadini è difficile, praticamente l'ha fatto bloccare dalle sue guardie perché non voleva parlare e Pier che gli diceva sono sei mesi che chiedo di parlarti, ma tu non sei capo per te stesso, sei capo per i cittadini, noi abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce, vi racconterà queste storie. Vorrei ricraziare Colette Chitoga che è già la seconda volta che viene qui al nostro convegno, una donna medico che insieme si è messa in testa di vivere la sua professione medica non per se stessa ma per gli altri e si è messa insieme e ha creato una serie di cose in cui soprattutto i bambini e i ragazzi ci lavorano, ci sono presenti. Sta arrivando Elen Ginda, questa teologa che merunese a cui abbiamo chiesto di fare una lettura teologica delle speranze in Africa, poi una piccola novità, avevamo tentato di invitare un ragazzo, un bambino lavoratore, però i tempi erano abbastanza ristretti del Benin, il rappresentante nazionale dei bambini lavoratori del Benin, però sapete a 14 anni visti è un po' difficile, però sappiamo che in Africa esiste un forte movimento di auto-organizzazione dei bambini lavoratori, non siamo riusciti a trovare lui, però abbiamo scoperto che in Italia ci sono tre bambini lavoratori che non sono africani, sono ecuadoregni, però a Siena hanno fatto il loro raduno mondiale, c'erano tutti africani ed ecuadoregni, accompagnati da Don Franco Monterubianesi, dalla comunità di Capodarco che sta organizzando i ragazzi in Italia e che vogliono aprire anche un lavoro nei confronti dell'Africa e quindi a mezzogiorno verranno loro a portarci la loro testimonianza. Oggi pomeriggio in una tavola rotonda in cui tutti hanno, possono parlare, portare la loro testimonianza, ascoltiamo la testimonianza e le speranze di giovani africani che ci racconteranno insieme con i relatori le loro storie eccetera. Questo è un po' il senso di questo convegno. Dietro ci sta la voglia di dire siamo in un mondo che dobbiamo costruire insieme, dove ognuno deve vivere le proprie peculiarità e le proprie diversità, ma siamo in un mondo che se ci mettiamo insieme a costruirlo non c'è potente al mondo che sia capace di, più forte di tutto, è il mettersi insieme, l'organizzarsi insieme, partire dalla base, partire dall'esigenza della gente e sapremo vincere anche i poteri più forti, anche le persone più potenti, anche i gruppi che vogliono fare solamente i loro interessi. Dentro quest'idea di un diritto al futuro per l'Africa, che però diventa un diritto al futuro del mondo, ci sta l'idea di dire noi non vogliamo abbandonare il fatto di metterci insieme, organizzarsi, sentirci cittadini non solo del nostro paese ma del mondo intero perché abbiamo il diritto di costruire un mondo così come lo vogliamo. I nostri sogni, le nostre speranze, le nostre aspirazioni non dobbiamo castrarli, assolutamente no, dobbiamo diventare in un certo senso degli eversivi in nome di un futuro che sogniamo perché se lo sogniamo è possibile. E scusate vorrei terminare ricordando una persona che c'è stata molto cara da alcuni di noi, Donel del Camara, il vescovo brasiliano delle favelas, l'arcivescovo di Rio, il vescovo di Recife, il vescovo dei poveri, il vescovo della povera gente che terminava spesso i suoi interventi citando una frase che io mi porto sempre dentro e che mi sembra sia la sintesi di un impegno politico di tutti noi, quella politica alta, quella politica che noi sogniamo, quella politica non politicante, quella politica che nasce dal cuore della gente. Un impegno che è quello di dire, diceva, quando si sogna da soli è solamente un sogno, quando si sogna insieme è l'inizio della nuova realtà. Noi stiamo tentando, vogliamo tentare di sognare insieme, sognare con loro, con gli africani, con gli amici africani che sono, sognare con tutti quelli che partendo dalle loro condizioni guardano avanti, non si fanno vincere, hanno il coraggio di resistere, hanno il coraggio di organizzarsi. Se organizziamo i nostri sogni nessun potente sarà più forte di noi. Grazie. Adesso do la parola. Vorrei ricordarvi che il sindaco di Ancona non è potuto venire perché sapete molto bene c'è il congresso dei DS a Firenze per portare al Partito Democratico, eccetera, sono cose molto importanti. Mi ha espressamente detto di portarvi il suo saluto. Sapete, è venuto sempre tutti gli anni, a volte la teneva anche troppo lunga, questa volta la tiene più corta. Però questo significa che la città ci accoglie volentieri. Poi vorrei dare la parola invece, scusate se mi prendo due minuti per presentarlo, a Giancarlo Sagramola. Giancarlo Sagramola è il vicepresidente della provincia, è con lui che dal secondo anno, perché il primo anno non c'era ancora, dal secondo anno del nostro convegno abbiamo sempre avuto i rapporti e la collaborazione per cui nascono questi convegni. Io non so quello che lui pensi. Io mi sono accorto che in questi anni dal primo incontro siamo andati crescendo insieme e ho sperimentato, ho sperimentato davvero incontrando lui una persona che partendo dalla realtà amministrativa, dai problemi locali, eccetera, forse penso, spero anche un po' per gli stimoli che gli sono venuti anche da noi. Ha cominciato a guardare il mondo, ha cominciato a guardare l'Africa, si è innamorato dell'Africa. Adesso è un po' quello negli amministratori provinciali, nell'associazione delle province, è un po' quello che è il patito dell'Africa e quello che sta seguendo queste cose. Io lo vorrei ringraziare, vi dico la verità, scusate se posso sembrare un momentino retorico, perché mi sono accorto, conoscendo lui, vedendo quello che fa, come sia possibile guardare lontano e lavorare vicino, quando si fa la politica non come potere ma come servizio. Giancarlo ci ha sempre aiutati in questi anni, è qui presente insieme con noi, ha voluto fortemente con noi anche questo momento di incontro. Lo ringrazio di tutti questi anni di lavoro, della sua presenza e della sua amicizia, gli do la parola per darci il suo saluto. Dopo le parole di Eugenio uno si sente un po' in difficoltà, naturalmente, è incomprensibile penso. Voglio ricordare Eugenio che eravamo quando Donatella Linguiti, l'attuale sottosegretario, pensava di organizzare il convegno e aveva chiamato il Presidente del Consiglio. Se ti ricordi, in una seduta, in un tavolo rotondo, al quinto piano del Palazzo della Provincia, concordammo di fare il convegno, perché io ero il Presidente del Consiglio quella volta. Però giustamente Donatella era l'assessore alle cooperazioni alla pari opportunità alla pace e quindi seguiva lei direttamente l'iniziativa. Ma dagli anni successivi, dopo quell'incontro, effettivamente io devo dire che ho modificato pian piano alcune riflessioni e alcuni atteggiamenti. Nel senso che uno cresce stando insieme alle altre persone, se riesce ad ascoltarle, io credo. Cioè a mettersi in discussione. Bisogna che l'operazione che si fa non è solo quella di ascoltare, ma che questo ascolto sia produttivo per noi stessi. È un po' la questione del sogno. Un conto è sognare da soli, un conto è sognare insieme. Un conto è lavorare insieme, fare fatica, costruire i progetti. E con Chiama l'Africa abbiamo fatto questa esperienza. Di costruire insieme alla provincia un percorso. Perché da quel convegno è nato nel nostro programma elettorale la scelta per l'Africa. Nel programma elettorale della maggioranza, nella parte dei servizi sociali e delle politiche, che peraltro avevo scritto io, avevamo dato centralità all'Africa. Per cinque anni ci saremmo occupati di Africa. Poi il Presidente mi ha affidato anche la delega alla cooperazione, pace e sviluppo. E quindi ho portato avanti quel processo. E non vedevo nessuna conclusione se non ci fosse stato il convegno prima che noi chiudevamo il convegno elettorale. Noi andiamo al voto il 27 maggio. Spero, anzi, ragionevolmente sono sicuro che nel programma elettorale, lo stiamo riscrivendo insieme, e ci sarà di nuovo l'impegno per l'Africa per i prossimi cinque anni, ma non volevo che saltassimo il convegno di quest'anno. Anche se un po' oscurato dai mass media per un paio di motivi, ma uno in particolare perché ci sono le elezioni, abbiamo anche scelto di farlo anche in misura ridotta come attenzione, ma non ridotta come presenza, come contenuti. Perché questo convegno è stato l'elemento che culturalmente ci ha permesso di cambiare il nostro modo di ragionare sulla cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, con l'Africa in particolare, partendo da quelle questioni che ci avete insegnato voi, che è la prima questione, quella di ascoltare. E il fatto di aver fatto parlare qui, nei nostri convegni, sempre a relatori di nazionalità africana, impegnati nella società civile, nelle istituzioni, ci ha permesso di crescere nella conoscenza, nella conoscenza di questo immenso continente e nella conoscenza della realtà positiva e anche negativa che emerge e che viene avanti. Questo ci ha permesso di, come dire, rassettare l'azione amministrativa. Poi è chiaro che ci ha portato adesso anche a fare della provincia Ancona, tramite me anche il coordinamento degli enti locali per la pace in Africa. E sono oltre 100 quelli che hanno partecipato con un progetto preciso al forum sociale mondiale in Africa. Abbiamo cercato di portare lì. Io credo che questo elemento, peraltro, del forum sia un elemento che segnerà le politiche per l'Africa e con l'Africa. Perché al forum c'è stato un importante cambiamento. Vedete? Un conto è iniziare il forum, sì, con la marcia e il convegno. Un conto è iniziarlo con una celebrazione religiosa dentro una baraccopoli a Coro Cojo e sperimentare lì la voglia di cambiare. Io credo che quello sia un segno particolare, sia per i credenti che per i non credenti. Perché anche i non credenti che erano presenti in quell'incontro mi hanno testimoniato il loro stupore, la loro emozione, per quella azione, per quella celebrazione, per quel momento di comunità. La voglia di voler uscire da una situazione di difficoltà e rilanciare il proprio percorso. che poi si è concluso con la marcia al forum all'interno di tutte le baraccopoli intorno a Nairobi. E con una scelta precisa, vedete, gli enti locali che sono nel comitato Air Forum italiani, si sono presi l'impegno di rifare il forum in Africa. Noi vogliamo che il prossimo forum sia fatto di nuovo in Africa, dai cittadini africani. Non è detto che si deve fare a Nairobi, si può fare in un'altra parte, ma questa particolarità di un forum che è cambiato, che ha assunto un'altra natura, un altro aspetto, vorremmo che fosse mantenuta. Perché questo lavoro ci ha coinvolti talmente, parlo degli enti locali, che noi abbiamo deciso di costituire un coordinamento permanente, anche l'altro ieri ci siamo incontrati a Roma, e continueremo questo impegno forte per, come dire, riorientare il nostro percorso di cooperazione, dargli una sistematicità, farlo diventare un progetto politico forte, che spinga il governo italiano a una grande e maggiore attenzione alle questioni e ai temi dell'Africa. E quindi non potevamo non fare il convegno oggi. Perché questo significa che questo aspetto culturale lo vogliamo curare, lo dobbiamo curare nei prossimi cinque anni della nostra legislatura. Io spero che, chiaramente, saremo riconfermati ad amministrare la provincia di Ancona. Poi, se non ci sarò io, non è questo il problema, ma l'importante è che il progetto politico, culturale, continui, per farci un po' cambiare. E questo è il senso, secondo me, di questo convegno e della cooperazione che facciamo. Aiutarci a cambiare, a cambiare noi. Noi occidentali, noi europei. Mi ha molto colpito, peraltro, in Africa, in una delle 1200 riunioni che c'erano, chiaramente non abbiamo partecipato a tutte, ma nell'incontro che abbiamo organizzato su Europa-Africa, un professore universitario ugandese diceva che noi possiamo recuperare dall'Africa il modo di trattare con le persone, il modo di recuperare la nostra storia. Gli africani non dimenticano mai la loro storia, non dimenticano mai le persone, dedicano tempo ai saluti, agli incontri, a raccontare. E lui diceva, la nostra società occidentale si butta dietro tutto in un attimo, taglia i ponti e ricomincia ogni volta da capo, che a volte può essere una forza, ma è una grande debolezza se poi perde i legami, le relazioni. E inoltre che non dobbiamo farci sconfiggere dalle sconfitte, scusate il paradosso delle parole, ma non dobbiamo arrenderci alle sconfitte. Leggevo il libro di Eugenio, me l'ho solletto, me l'ha regalato qualche giorno fa, sulla democrazia e i primi processi di democrazia in Congo, e poi l'altro giorno sull'Avvenire leggevo che le truppe di Renga, Bemba, hanno provato a riassaltare Kinshasa. Non dobbiamo arrenderci a questo, non dobbiamo arrenderci al Darfur, non dobbiamo arrenderci a quello che sta succedendo in Somalia, che è un dramma inenarrabile. Credo che dobbiamo aprire i riflettori sulla Somalia, perché stanno avvenendo cose che cambieranno quel paese, anzi lo ridurranno ad una nuova schiavitù. E noi dobbiamo essere attenti. Peraltro la Somalia è l'unico paese che nella Costituzione ha come lingua l'italiano, e quindi noi italiani dovremmo essere particolarmente attenti. Ma al di là di questo, non dobbiamo accettare che le guerre e le violenze che si generano dopo un lavoro che abbiamo fatto nel tempo, ci abbattano. perché è come questo convegno. Io ci tengo e ci teniamo come provincia d'Ancona perché abbiamo avuto momenti picchi con 800, 1000 persone, quando c'era una guerra, quando venivano personaggi che bucavano il video, ma è chiaro, l'opinione pubblica in un certo modo la pensa così e si fa catturare dall'emozione. Io credo che quelli che vengono qua e che hanno voglia veramente di cambiare, lo costruiscono passo passo il proprio cambiamento, perché è un percorso lungo che comporta sacrifici, perché cambiare non è mai una cosa semplice, perché ognuno di noi ha ancorato alle proprie idee, ai propri costumi, alle proprie consuetudine, alle proprie sicurezze. E invece cambiare significa mettersi in cammino, progredire con calma, col tempo, modificando i propri atteggiamenti, le proprie azioni di vita. Tanto più lo è in un'amministrazione pubblica. Io penso che qualche piccolo passo, sono orgoglioso, ma penso che qualche piccolo passo lo abbiamo fatto, io vorrei che insieme ne potessimo fare tanti altri. Prima di dare la parola ai nostri interlocutori, permettetemi di fare un ricordo. Io penso che sia doveroso da parte nostra ricordare un grande uomo che ci ha lasciati, che ci ha accompagnati in questo nostro viaggio. era presente all'inizio di Chiama l'Africa a Firenze, è venuto due convegni qui ad Ancona, e una delle grandi querce africane, uno dei grandi alberi africani, dei grandi uomini africani, ritenuto come il più grande storico africano, anzi non solo ritenuto lo è, ma anche per chi l'ha conosciuto, e noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo molto bene, un uomo buono, un uomo saggio, un uomo che amava l'Africa, e un uomo che con le sue storie, con le sue scritti, con le sue parole, ci ha fatto amare anche a noi l'Africa, ci ha insegnato ad amarla. Io vi chiedo di alzarvi in piedi e di ricordare Joseph Kiserbo. Sono sicuro che di là ci ha visti, eh? Bene, cominciamo allora il nostro cammino. Chiederei innanzitutto di parlare a Patrick. Vi ho detto Patrick chi è, è uno dei responsabili di Emmaus in Benin, però c'ha anche una storia, la sua personale, è uno di coloro che seguono in questo contesto di responsabilità di Emmaus, eccetera, soprattutto i giovani, è partito dai ragazzi di strada, dalla gente, dando loro delle prospettive di lavoro, delle prospettive di vita. Chi di noi l'ha conosciuto, quando è stato in Benin, è rimasto entusiasta delle sue parole, della sua esperienza, eccetera. Ebbene, adesso abbiamo voluto che questo entusiasmo non fosse solamente per pochi che l'hanno conosciuto nel suo paese, abbiamo voluto invitarlo anche qui e penso che lo inviteremo ancora. Ti do la parola, Patrick, grazie. Mon propos s'articulera autour de plusieurs points. Il y a d'abord l'expérience sur le terrain, parce que moi, je suis un homme de terrain. Ensuite, je parlerai un peu de la vue de certains problèmes que nous avons en Afrique, vue perçue di qualche africano, malgrè le situation difficile, che hanno deciso di restare sulla place. E poi, il y aura una interpellazione par rapport a voi che siete qui siete qui siete. Come Eugenio l'ha detto, moi, ho fatto le studi universitario, ho una maestria in scienza economica. E come, per ciò che si rappele, il Bénin era un paese marxistico-léninista. Abbiamo fatto 17 anni di rivoluzione e credo che è questo che ha distrutto la struttura, tutto ciò che aveva stato costruito durante le lungo anni. E ciò che ha fatto che noi, noi, Béninois, nel tempo, la tentazione è stata molto grande di partire di fuire questa ripression, di fuire questa dictature. Ma noi, dopo le studi universitario, abbiamo deciso di restare, di resistere, di dire che abbiamo il modo di resistere e di esprimere i nostri propos. E' questo che ha forgi in noi questa volontà di nos battere, di nos associare a d'autres per finalmente fare il mondo come noi diceva, vi parlare un po' di l'esperienza dei jeunes africani, le difficoltà, gli douti e le esperienze. A questo livello, da tutto ailleurs, possiamo situare di Grazie a tutti. 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 100 euro au pays c'est peut-être un mois de sacrifice pourtant tout le monde est heureux de dire mon enfant est en France voilà un peu les réalités que nous avons en Afrique de ceux qui se disent la réussite c'est là-bas, c'est en Europe maintenant pour la deuxième catégorie de jeunes que nous appelons les enfants et jeunes travailleurs le combat est plus dur pour la plupart ce sont des enfants et jeunes laissés à eux-mêmes et qui doivent se battre pour construire leur vie dans le cas que je connais bien c'est une frange de la population qui s'organise avec bien sûr l'accompagnement de certaines ONG pour revendiquer et exercer leurs droits et ils se sont regroupés dans un mouvement qu'on appelle le mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs ce qui leur permet localement d'avoir des associations de pouvoir s'organiser et se tracer un cadre de vie j'étais aussi à l'origine de ce mouvement en 1994 à Wauquay où nous avons réfléchi avec ces enfants les enfants qui travaillent dans les gares les enfants qui traînent des chariots les enfants qui n'ont plus d'introiteur qui n'ont pas de parents pour les nourrir nous avons réfléchi ensemble et nous avons dit est-ce que toujours nous devons vous dire ce que vous devez faire ? est-ce que vous-même vous ne pouvez pas dans votre organisation dire vraiment nous sommes des hommes nous devons exister nous devons avoir un cadre de vie et en 2014 nous avons travaillé à Wauquay et ces jeunes là enfants et jeunes quand je dis enfants et jeunes c'est des jeunes mineurs qui ont 10 ans qui ont 8 ans qui ont 14 ans et qui se sont regroupés dans ce mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs pour ne serait-ce que recenser quelques droits ils ont pu avoir 12 droits pour eux ils avaient 12 droits et ces droits là pouvaient leur permettre vraiment de conduire leur vie mais ces jeunes comment peuvent-ils faire s'ils sont analfabétisés ? c'est pourquoi dans le programme d'organisation de ces jeunes là il y a des cours d'analfabétisation de remise à niveau de formation sur l'état au métier de la vie ces jeunes enfants travailleurs se positionnent et occupent l'espace qu'ils ont eux-mêmes conquis à travers leur auto-organisation dans ce registre on peut vous citer plusieurs exemples d'enfants et jeunes travailleurs organisés qui essaient de s'insérer dans la vie pratique si nous prenons le cas du Bénin pour ceux qui ont visité le Bénin plusieurs jeunes qui ont refusé de succomber à la fatalité se sont occupés se sont organisés pour occuper le domaine des transports urbains c'est la corporation de plus de 100 000 jeunes qui se sont investis dans le taxi-moto quand vous venez à côté de nous la capitale économique du Bénin vous voyez des gens qui sont habillés en jaune c'est des jeunes qui n'avaient pas d'issue et qui se sont dit puisque le transport urbain n'existe pas chez nous ils se sont organisés et ils ont imposé au pouvoir institutionnel les taxis-moto donc le transport urbain chez nous à Cotonou qui est la capitale économique du Bénin à 90% c'est fait par les taxis-moto et ça c'est une forme d'organisation c'est une forme de prise en conscience des jeunes pour dire voilà un espace qui est là un espace qui n'est pas occupé nous nous insérons d'autres travaillent dans des petites coopératives de couture de restauration d'élevage de services d'assainissement de propriété d'autres encore suffisent des objectifs communs construire leur vie à travers la formation du travail et l'exemple que moi j'incarne c'est l'exemple de la communauté Emmaüs de Pao ça fait une dizaine d'années que 15 jeunes sortis de prison drogués rejetés par les parents que nous avons commencé à réfléchir ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tous ces jeunes qui ont quitté les villages et qui sont venus dans la capitale économique nous essayons de construire notre cadre de vie à travers l'agriculture et l'élevage c'est une aventure passionnante parce que nous sommes arrivés dans cette auto-formation à dire à ces jeunes à leur faire comprendre qu'ils peuvent être responsables la prison le vol ce n'est pas la panacée on a des valeurs en nous on peut réfléchir on n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous auto-organiser et je crois que c'est de ça que l'Afrique a besoin l'Afrique a besoin aujourd'hui que les responsables chacun à son niveau on puisse parler le même langage on puisse avoir des objectifs communs on puisse se faire confiance parce que cette confiance là les responsables politiques que nous avons ils ne nous donnent aucun exemple par rapport à ça imaginez que dans nos différents partis dans nos différents pays on parle de la démocratie oui nous avons la démocratie au Bénin par exemple nous avons plus de pour 6 millions d'habitants nous avons près de 120 partis politiques pour quel programme pour quel programme et au Bénin il y a un mot qui est qui est comment dirais-je alors du jour on parle de la transhumance politique tout le monde connaît la transhumance des bêtes c'est-à-dire qu'en pays chaud quand il n'y a pas d'eau les bêtes quittent un point à l'autre maintenant c'est la transhumance politique parce que nous ne nous retrouvons plus dans les mêmes valeurs il suffit qu'il y ait confrontation d'idées on est prêt à quitter ce bord et à atteindre l'autre bord à coup de millions à coup de corruption à coup à coup à coup de combines et avec ça est-ce que nous pouvons réussir c'est cela que nous de la société civile c'est cela que nous organisation nous avons dit nous ne pouvons plus faire confiance à nos responsables politiques nous devons nous prendre en charge nous devons nous exprimer nous devons dénoncer vous savez la dénonciation en Afrique vous savez ce que ça coûte c'est inscrit que c'est la démocratie mais quand vous dénoncez vous êtes poursuivi quand vous dénoncez votre famille est persécutée quand vous dénoncez quelquefois vous êtes obligé de quitter votre pays mais je pense qu'il faut résister il faut résister pour s'imposer et je crois que dans les capitales africaines dans les villes africaines de plus en plus cette société civile c'est plaidoyé ces organisations sont en train de se mettre en œuvre et je continuerai en disant que les expériences difficiles qui ont réussi nous autorisent à espérer est-ce qu'il faut perdre espoir parce que moi je n'ai pas voulu encore repeindre le tableau guerre sida somalie nigéria côte d'ivoire rdc grippe aviaire méningite non l'Afrique n'est pas ça l'Afrique pour ceux qui l'ont visité l'Afrique pour ceux qui l'ont côtoyé l'Afrique aussi c'est la réflexion nous savons réfléchir et je dirais que la colonisation ne nous a pas aidé je pense que pendant la colonisation je ne sais pas par quel mécanisme où nous tous intellectuels ou non intellectuels nous pensons que le bonheur c'est là-bas la réponse c'est là-bas tout doit venir de là-bas et la pédagogie est là tous les jours on en a à la télé oui le parlement a ratifié les conventions d'aide et de développement mais quand les jeunes qui ne sont pas dans un moule qui n'ont pas ce courage pour se prendre quand ils entendent ça ils disent l'argent va venir l'argent est là nous pendant la campagne présidentielle tous les présidents on avait 26 21 21 candidats pour un pays de 6 millions d'habitants on avait 21 candidats qui voulaient être président qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas promis ah système de sécurité sociale on va augmenter les salaires on va construire les universités on va faire et tout le monde savait que c'était faux la priorité pour nos responsables politiques aujourd'hui en Afrique de l'Ouest c'est comment payer les fonctionnaires parce que quand les fonctionnaires ne sont pas payés ils sont dans la rue et quand ils sont dans la rue le pouvoir est menacé et quand le pouvoir est menacé les militaires sont là pour prendre le pouvoir donc nos autorités la santé l'éducation ce n'est pas leur priorité et nous nous organisons de plus en plus pour dire à travers nos vécus à travers le travail que nous faisons sur le terrain pour dire ne vous regardez pas vous-même regardez ceux qui vous ont élus regardez ceux qui n'ont pas d'eau parce que le problème de l'eau vous vous en avez quand vous ouvriez le robinet ici vous l'avez mais nous on ne l'a pas l'eau qui est un bien public l'eau qui est fondamentale à la vie nous ne l'avons pas et je dis ces exemples là nous portent à respirer mais l'espoir pour nous a des critères les critères pour respirer c'est quoi il faut que chaque jeune chaque africain chaque enfant qu'on ait une idée claire de ce qu'on veut faire une idée claire de ce qu'on veut faire moi j'ai décidé j'ai fait l'économie je pouvais partir comme les autres je pouvais être professeur je pouvais travailler dans une banque mais mon choix a été d'accompagner les jeunes de la rue depuis 15 ans et qui connaît Emmaüs on ne vient pas à Emmaüs pour être riche on vient à Emmaüs pour travailler avec les autres pour accompagner les autres pour se sacrifier ça fait ça fait 12 jours que moi je suis parti du Bénin pourquoi pour porter le message des plus pauvres pour porter le message de ceux qui disent on peut refaire le monde je racontais cette anecdote à des amis moi j'ai une petite fille de 8 mois mais elle ne me connait pas parce que je ne suis jamais à la maison je quitte la maison à 8 heures je reviens à 20 heures quand elle s'endort le matin je sors quand elle dort toujours on peut dire c'est fou mais c'est cet engagement de dire on peut accompagner on peut faire avec les gens on peut croire en nous même c'est cet engagement là que j'ai à ce moment là je pense qu'au moment opportun je passerai le témoin à d'autres et je vais m'occuper de ma famille donc le critère je disais c'est avoir une idée claire c'est avoir des objectifs précis et réalisables objectifs précis et réalisables vous voyez vous entendez les sommets africains ils ont se réunis en fait c'est comme on le dit des messes chacun mais nos responsables n'ont pas d'objectifs précis et réalisables le Népad je sais qu'il y a certains qui étaient chauds pour le Népad j'en connais dans cette salle le Népad qu'est-ce que ça a donné comment on peut concevoir un organisme de développement en se disant ce n'est pas de là c'est pour avoir les ressources extérieures on pense toujours que vous pouvez nous donner de l'argent alors que vous avez vos problèmes vous avez des problèmes peut-être des problèmes quelquefois nous on rit quand on vous voit dans la rue protester on dit ils ont tout mais ils protestent toujours mais nous nous n'avons pas le minimum et nos responsables je pense que les ONG que nous sommes nous devons leur dire d'avoir des objectifs précis et réalisables le Népad c'est la dernière fois que tout le monde a constaté qu'on ne peut pas bâtir quelque chose on ne peut pas construire un pays on ne peut pas construire sa famille sa famille la cellule familiale en disant c'est l'autre qui va me donner et quand il va fermer le rovinet qu'est-ce que tu vas faire ça il faut réfléchir par rapport à ça troisième critère une formation et une mise à niveau oui oui je pense que l'aide au développement oui l'aide au développement n'a pas réussi parce que nous n'avons pas été formés on vient on dit tel projet on injète le projet mais ceux qui sont à la base ceux qui doivent s'approprier de ce projet de ces techniques là ils n'ont pas été formés et je m'excuse si je le dénonce et c'est mon devoir de le dénoncer mais tous les projets qu'on a eu jusque là c'est des espèces que vous nous envoyez et ces espèces chez nous ce n'est pas ce n'est pas des reproches qu'on vous fait mais c'est des constats et ça viendra dans ma troisième rubrique comment on peut refaire les choses ces espèces qui viennent est-ce que c'est pour nous aider à bien faire le travail ou pour ramener l'argent à la maison ça c'est des questionnements donc il faut une formation et une mise à niveau il faut pour espérer une recherche interne des moyens disponibles pour réaliser les projets peut-être j'ai des frères africains qui vont dire celui-là il parle de quoi nous sommes pauvres on n'a rien non nous sommes pauvres mais nous avons des ressources chez nous dans quel projet que vous avez accompagné où on a demandé aux locaux de rechercher chez eux ce qui peut être le levier de ce projet-là on le dit c'est peut-être utopique mais il faut qu'on commence par réfléchir pour dire par rapport aux actions que nous voulons faire quelles sont les ressources locales pour ceux qui ont visité un peu le capital africain chez vous vous avez des immeubles je pense que c'est des sociétés c'est des coopératives mais chez nous c'est des particuliers c'est des particuliers qui ont 10-15 étages c'est de l'argent donc les gens sont riches mais ils ont perdu le sens de la solidarité c'est la solidarité qui a été le gage de l'Afrique la solidarité n'existe plus qu'on ne vous blise il n'y a plus de solidarité en Afrique il y a peut-être quelques solidarités familiales mais la solidarité pour porter l'autre à réussir non chacun est dans son coin vous arrivez à Cotourou vous avez plein d'immeubles quelqu'un a 4-5 immeubles mais il n'y a personne dedans personne ça c'est du gâchis donc recherchez localement les moyens disponibles et après on peut rechercher les moyens techniques à l'extérieur mais des moyens pour accompagner des moyens techniques de l'extérieur pour accompagner c'est-à-dire travailler ensemble échanger et que celui du nord ne dise pas non lui il est du sud moi je pense que mes idées sont meilleures non chacun a sa vision des choses et nous nous disons souvent à Emmaüs quels que soient les échanges puisque vous savez que Emmaüs c'est la rencontre c'est les échanges il faut se prévaloir de ce que nous avons localement il faut croire en celui qui est là et après essayer d'apporter son expérience essayer d'échanger pour avoir ce que nous appelons Emmaüs le socle minimum c'est-à-dire un minimum sur lequel on peut travailler ensuite il faut une planification et une exécution concertée du projet avec obligation de résultat et compte rendu ah oui mes amis je ne sais pas si ça se passe chez vous obligation de résultat et compte rendu je pense que beaucoup de nos projets même à Emmaüs ça on se voit le palaface on fait un projet on n'a pas fini de projet on sort un autre projet je prends mon cas je vais élever des poules je commence par élever les poules je n'ai pas fini d'élever les poules je dis oh j'ai encore un projet je vais acheter des camions vidanges est-ce que Emmaüs Italie Emmaüs Rome envoyez-moi de l'argent c'est bon Patrick c'est un bon travailleur j'envoie de l'argent donc on ne fait pas des variations on ne rend pas je pense que si de plus en plus cette obligation de résultat et de suivi on l'impose parce que c'est des contraintes qu'on s'impose je pense que l'espoir sera permis et la dernière chose et ça c'est un appel aux politiciens de nos différents pays une redistribution dynamique et concertée des fruits des produits la redistribution vous entendez souvent parler du Nigeria les papes qui sont siphonés ici par là les différentes guerres qu'on a en Afrique c'est la redistribution deux ou trois personnes s'accaparent de la richesse du pays il faut redistribuer même au niveau des associations il faut redistribuer il faut partager il faut que celui qui travaille puisse bénéficier des fruits de son labeur je pense que l'espoir est permis si dans nos associations si dans nos ONG si dans les relations nous essayons vraiment de mettre en exécution ces différents critères dans un cas comme dans l'autre on a des raisons d'espérer en restant sur place et en s'inscrivant dans une dynamique de recherche de solutions aux problèmes qui s'appuient sur une volonté commune et partagée de sortir de la situation difficile chaque jeune africain peut faire confiance en son milieu à ses potentialités à son génie créateur à sa force de travail et après c'est l'interpellation que je me plais de vous faire et peut-être que cet après-midi nous allons nous allons nous allons discuter dans dans le groupe de travail oui vous voyez dans la salle il y a plus d'européens que d'africains et nous parlons des relations nord-sud je peux me permettre de dire que comme on le dit chez nous vous avez le nécessaire l'agréable et nous nous manquons du minimum et nous ne sommes pas là pour nous impliquer dans cette discussion nous ne sommes pas là pour porter nos idées la première question est que dans cette nouvelle dynamique des relations nord-sud qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire la question paraît simple on va vous donner de l'argent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble moi je voudrais que cet après-midi qu'on aurait qu'on puisse se déterminer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment le faire comment le faire ça c'est la deuxième interpellation et troisième chose qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous qu'est-ce que vous vous pensez dans votre fort intérieur avec toutes les richesses que vous avez avec toutes vos lois je ne vous dirai pas la fin que j'ai eu hier quand je suis venu j'ai voulu dire aux policiers moi je suis heureux chez moi parce qu'il m'a fouillé non mais disons il a pris mon porte-monnaie il a compté et il me demande ça fait combien j'ai dit mais vous avez compté aussi vous j'étais écœuré je me suis dit si je pouvais partir j'allais repartir parce que quand vous vous venez chez nous c'est avec le sourire c'est avec la joie qu'on vous accueille et quand on vient ici bon ça je ne reviens pas dessus mais j'ai été choqué j'ai été choqué bon je termine je termine mon propos parce que je ne savais pas le temps que j'avais par rapport à ça je conclue en disant il y a espoir nous pouvons en Afrique nous pouvons espérer il suffit que nous puissions redéfinir les règles nous puissions redéfinir les règles et redéfinir les règles on n'a pas besoin des connaissances universitaires non nous pouvons redéfinir les règles sur le terrain parce que nous dépendons de vous vous dépendez aussi de nous le jour où vous accepterez que les produits de l'Afrique soient payés au juste prix je pense que là déjà il y aura une solution par rapport à ça le jour où vous accepterez de ne pas soutenir les pouvoirs corrompus non-démocrates et que vous voyez tous et que vous continuez à soutenir le jour que vous direz à ces gens-là laissez aussi les autres donner leur point de vue le jour que vous serez ferme que en Côte d'Ivoire vous direz j'arrête de soutenir tel ou tel bord que les gens se remettent ensemble qu'en RDC que des frères qui ont combattu ensemble se déchirent que dans les différents pays que vous accepterez de dire vraiment vous pouvez quelque chose l'Afrique sera en mars et nous allons réussir merci merci Grazie a tutti